Ma a lei ci piaccia Mussolini? Come? A lei ci piaccia Mussolini? Ma a lei ci piaccia Mussolini. Le cose le facevano tutte le cose, però, signor. Le cose le facevano tutte le cose. Le cose le facevano tutte le cose. Le cose le facevano, le cose le facevano. Ora non trova niente di scioglie. Se mi entra, prende questa roba e non va così. Se questa roba non ti trova. Come si parla a Barri Giovanni. Da sotto, a rubare. Caruso, ma lei quando partì, lei si sentia siciliano? Come si sentia italiano? Come si sentia? Come ci parla che era? Ma come si parla? Come si parla? Come si parla, come si parla. Ma si parla, ma si parla. E io pensavo, ma... E io sempre facevano, ma... Sono solo qua, quando era la ora. Se mi metto qua, ma che fai? Che poteva niente? E pensavo sempre. Ci poteva sapere, ma non c'era altro. E non c'era il pericolo. Non c'era una macchina all'altra. Non c'era un po'